La Pia Social ha tracciato veramente quella che è la nuova comunicazione nella pubblica amministrazione e per ottemperare a questo la Smart City deve comunicare in maniera efficace ciò che è necessario e ciò che è esigente nei confronti dei cittadini. Ci stiamo comunque confrontando su quelle che possono essere le best practice a livello italiano e stiamo facendo una sintesi per poter veramente portare qualcosa di concreto e di ripetibile a livello nazionale.